bella a tutti ghost e bentornati da luca 7392 ragazzi bentornati sul canale ed eccoci nuovamente su tom clancy's ghost dragon wildlands apriamo subito la mappa per vedere quale missione della storia affrontare ok ce l'abbiamo proprio vicino perfetto sappiamo dove sono yuri e pulito è ora di ripagarli per quello che hanno fatto a sandoval non mi importa cosa fate basta che alla fine siano morti tutti e due ok la yuri è del pulito ottieni accesso al capanno da caccia di la yuri e del pulito perfetto let's go ci avviciniamo al capanno occhi aperti capanno da caccia che ci ho scritto raggiungi scassina scassina è spettacolare che ti fa scassinare le porte ragazzi entriamo occhio alle porte e agli angoli allora dove stanno yuri e pulito qua c'è una camera da letto con un televisore acceso guarda che stavano qua se non mi sbaglio sì ok mi ricordavo bene che l'ho fatta pure nell'open beta questa missione perfetto scendiamo ragazzi beh la squadra però non mi sta seguendo perché diciamo di seguirci raduniamoci gente per essere qui che sandoval ha tirato le cuoia bohman dice che l'hanno tenuto in vita per quanto sono delle risorse poveretto ha resistito un bel po' è come se ci stesse aspettando ma noi siamo tragicamente in ritardo regoliamo i conti allora dove stanno stanno più avanti mi sa ragazzi ok stanno qua io riepulito ragazzi carino chi eri prima di conoscermi mamasita non ero nessuno niente non riuscivo nemmeno a immaginare una vita intensa e piena di amore come quella che ho con te ok stanno qua io riepulito ragazzi ero sfocata prima di vedermi attraverso i tuoi occhi ti amo prima mentre spaccavo le mani a quel tizio ho immaginato che avesse cercato di toccarti amor che gelosone che sei e ogni dito roto era una punizione per un peccato che quelle mani avevano commesso contro di te allora uccidi la ieri del pulito perfetto dai che ci siamo quasi usa cazzo vediamo se il mio compagno di squadra mi reanima grande ok perfetto li abbiamo uccisi cazzo si si parla zitto dove sono andati yuri è pulito saranno morti immagini giuri è morta mara giuri perfetto 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 ok ora ci manca pulito da uccidere ragazzi non so dove si sia cacciato però sinceramente qua che c'è? ci sono risorse ci sono risorse no cazzo ecco ecco recuperiamo la vita cazzo 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 Grazie bro Ok qua ci hanno rianimato Dobbiamo uccidere Spolito E che cazzo Guarda sto pezzo di merda Una cosa assurda Perfetto ragazzi Abbiamo ucciso i rifiutti Avete presente che nei film la gente dice sempre Che la vendetta non dà soddisfazione Che non risolve niente Beh io sono al settimo cielo E mettere fine agli orrori di quei due piccioncini Ci ha fatto guadagnare punti con i locali Ci riaggiorniamo in caso di novità Passo e chiudo Mantellare il cartello Hai neutralizzato Un buchon Sconfiggi gli altri buchones Per raggiungere i capi delle operazioni E arrivare al sueno Accedi a una panoramica del cartello Nella mappa tattica Premendo la freccetta in giù Perfetto Ho scelto Il tuo prossimo bersaglio Qua che roba è L'età ma è merda Che cazzo è sta roba ragazzi Sono corpi Non lo so Vabbè ragazzi Spero che il video vi sia piaciuto Come ho detto già Nel video che ho fatto Troppo lungo Il primo gameplay Vi ho detto che avrei fatto video Più brevi Infatti Questo L'ho fatto più breve Di video Spero che il video Vi sia piaciuto Ragazzi il video Termina qui Io come al solito Vi ringrazio Per essere stati In mia compagnia Vi ricordo Di lasciare like Al video Condividerlo Con i vostri amici Appassionati Di Ghostragon Sui social network Condividete questo video Su facebook Su twitter E su tutti i social network Infine Commentate E iscrivetevi al mio canale Se volete Rimanere in costante aggiornamento Sui prossimi video Di Ghostragon Wildlands Se volete vedere Ancora video gameplay Della campagna Insomma E vabbè Se ancora non siete iscritti Iscrivetevi E poi vi ricordo Inoltre di seguirmi Anche su tutti i social network Su facebook Su twitter E su ludomedia Poi Mi raccomando Lasciate un sacco di like Per Questa serie Di Ghostragon Wildlands Che questo gioco Merita Veramente Tantissimo E detto questo Noi ci vediamo Ad un prossimo video Ragazzi Bella ragazzi Ciao Bella Ghost Ci vediamo in Bolivia Ragazzi Buon game A tutti A tutti